Domenica 6 febbraio, buongiorno a tutti voi, sono le 7 del mattino, ben ritrovati. Allora, guardiamo insieme le prime pagine dei giornali. Si parla molto di politica, soprattutto di quanto accade nella coalizione di centrodestra con Salvini che dice si è sciolta come neve al sole e poi con Di Maio che si è dimesso dal comitato di garanzia del Movimento 5 Stelle. E poi abbiamo anche delle interviste per quanto riguarda il Covid, la lotta alla pandemia perché tra l'altro per il secondo giorno consecutivo i casi registrati sono stati sotto la soglia del numero di 100.000 e poi nei prossimi giorni, lo sappiamo, ci sarà un allentamento delle restrizioni a parte le Marche che da domani entrano in zona arancione. E poi abbiamo ancora molti altri spunti. Ci sono stati ieri, lo sapete, i funerali, l'ultimo saluto a Monica Vitti e poi nel Marocco purtroppo il bambino che era imprigionato era rimasto intrappolato in un cunicolo non ce l'ha fatto nonostante la mobilitazione di volontari e soccorritori. Purtroppo per le ferite riportate non ce l'ha fatto. Questo ha mandato, come dire, alla memoria quanto accade da noi in Italia con Alfredino Rampi. E poi però ci sono anche le buone notizie, ci sono le notizie che arrivano dalle Olimpiadi con le prime medaglie conquistate e poi anche Sanremo andremo a vedere chi ha vinto. Allora partiamo dal Corriere della Sera. Salvini, la coalizione si è sciolta, le tensioni nei partiti, il leader della Lega, il cosiddetto centrodestra è come neve al sole e poi quanto accade anche nel Movimento 5 Stelle Di Maio lascia il comitato di garanzia, duro scontro con Conte. Vi dicevo anche le buone notizie per quanto riguarda le Olimpiadi, Lolo Brigida, Short Track, Italia d'Argento sul ghiaccio. Scendiamo più sotto, vediamo Sanremo sul podio, seconda Elisa e terzo Gianni Morandi ma vincono Mahmood Blanco che vincono appunto il festival. E poi le notizie sul Covid, un'intervista a Locatelli, il coordinatore del comitato tecnico scientifico. La fase critica ci sembra alle spalle, lo vedremo, ci sono segnali di ottimismo ma sempre con molta cautela. E poi quest'altra invece notizia sopra, sempre sulla pandemia, mini quarantena anche per i Novax calano i contagi. Andiamo a vedere la Repubblica, il titolo, Covid torna alla normalità, la Repubblica ospita un'intervista a pagina 3 al generale Figliuolo e questo è il titolo appunto scelto, la sintesi della sua intervista. E poi Locatelli, tenere l'obbligo di Green Pass anche dopo giugno. Maurizio Molinari parla di Europa, parla di Mattarella, allora che cosa dice a proposito di Europa? Dice, dopo essere riuscita nel 2020 ad unirsi contro la pandemia Covid-19 e aver varato nel 2021 una ricetta comune per ripartire, l'Europa deve ora darsi una visione comune di lungo termine, capace di rispondere ai bisogni dei cittadini che richiedono più sicurezza e più prosperità. E poi ci ricorda la coincidenza fra il recente cambio della Guardia, la Cancelleria di Berlino, le imminenti presidenziali in Francia, l'insolita fase di stabilità italiana, dovuta alla coincidenza fra Mattarella al Quirinale e Mario Draghi a Palazzo Chigi, crea una finestra di opportunità. E poi si impongono su Elisa e su Morandi, Mahmoud e Blanco vincono il Sanremo della gioia ritrovata. La stampa, vediamo, questa Italia ha bisogno di donne, il grande gap non diminuisce al sud, l'occupazione femminile è ferma al 30%, il dato più basso dopo la Grecia. C'è un'intervista a Giuliano Amato, la loro visione fondamentale per il Paese basta con la cooptazione maschilista. Massimo Giannini è il direttore della stampa, il suo editoriale, la Repubblica dello status quo tra Amadeus e Mattarella. Tra vent'anni, quando ripenseremo a questo scorso di 2022, ci torneranno in mente due momenti topici e antitetici. Un festival di Sanremo trasformato in allegoria della rinascita da un rito televisivo consolatorio, liberatorio, quasi rivoluzionario. E poi una Repubblica parlamentare convertita in monarchia costituzionale da un sistema politico sfibrato, delegittimato, quasi pietrificato. Mi rendo conto, l'accostamento è ardito, persino sacrilego, ma è il calendario che ha sovrapposto i due venti che paiono l'alfa e l'omega di un Paese irrisolto. E poi Mahmood, Blanco, Sanremo da brividi. Andiamo a vedere il messaggero. Centrodestra, la resa dei conti, Salvini alla carica, alleanza finita, Berlusconi, basta attacchi, la Meloni è il riconoscente, strappo nel Movimento 5 Stelle, Di Maio si dimette da grande, il nuovo centro accelera, noi con il Governo. Un'intervista a Ricciardi l'estate con il Green Pass, il consulente della Sanità, giusto congelare la validità dei certificati. E poi a sinistra di spalla abbiamo il commento di Romano Prodi, accende i riflettori giustamente su quanto sta avvenendo in Africa, perché dice che siamo concentrati sul caso ucraino e sui rapporti tra Mosca e Pechino, stiamo mettendo in secondo piano alcuni recenti eventi che avranno invece una decisiva influenza sul nostro futuro, e sono appunto i rapporti con l'Africa. La fotonotizia, Amadeus e Sabrina Ferilli, il Festival Sbanca, Sabrina Mattatrice, e poi però anche la notizia del Marocco, Ryan nel Pozzo, lo stesso dramma di Alfredino Rampi. Vediamo il sole 24 ore, caro energia, industria in caduta, centro studi di Confindustria dice a gennaio la produzione è diminuita dell'1,3%. Abbiamo il tempo di vedere il titolo del Fatto Quotidiano, Di Maio si sfila, Conte non cede, Grillo torna. Linea alla regia, 7,6 minuti, ci vediamo tra qualche istante di pubblicità, vi aspettiamo, a tra poco. 7,11 minuti, ben ritrovati. La prima pagina è quella del domani, andiamo a leggerla subito insieme. Parla di Sanremo, ma in un modo un po' diverso dagli altri. Allora, il vero vincitore di Sanremo, dice, è stato il greenwashing. Gli attivisti di Greenpeace, che giovedì sera hanno manifestato, hanno ricevuto il foglio di via per tre anni. L'unica narrazione ammessa sulla transizione ecologica è stata quella degli sponsor, campioni di emissioni. Voglio restare su questa prima pagina perché vi segnalo anche questa bella analisi, spero di avere il tempo di andarla a vedere, sui migranti. Le mani dei gruppi armati libici sulla tratta dei migranti. Andremo a vederlo dopo insieme. Vediamo il giornale. Il giornale, il titolo sul caro bollette, scossa al governo, tariffe, centrodestra e pressi in Forza Italia, nuova strategia energetica, Salvini contro il ministro Giovannini. E poi la notizia sul Movimento 5 Stelle di Maio, strappa con i 5 Stelle a un passo dall'addio. Vi segnalo il commento, l'editoriale del direttore Augusto Minzolini, l'abbaglio dei sondaggi, partiti e stagionali. Questo è il titolo. Vediamo il manifesto. Il manifesto non garantisco. Luigi Di Maio esce, vedete, dopo aver votato nell'aula di Montecitorio. Allora, che cosa dice? Di Maio anticipa Conte che meditava di chiederne la rimozione e lascia il Comitato dei Garanti del Movimento 5 Stelle. Sostengo il nuovo corso ma voglio essere libero di criticare. I vertici, atto dovuto e grillo, bassardori, giovanili, serve e maturità. Questo è il manifesto. Vediamo libero. Lo spread torna ai livelli di Conte. Draghi perde il tocco magico. Il ministro Giovannini, vicino al Premier, dice che non si farà altro debito per ridurre le bollette. Le gazzurri si infuriano. L'industria ora rallenta. Caos, super bonus. E il governo non sa che fare. Poi sotto abbiamo i tre leader della coalizione, del centro-destra. Allora, ci siamo sciolti proprio come la neve al sole, quello che ha detto Salvini. Berlusconi, grande centro, noi alternativi alla sinistra. Giorgia Meloni, raccolgo, firme per l'elezione diretta del Colle. Andiamo a vedere la verità. Il titolo della verità, la grande fuga degli impuniti del Covid. Corsa a intestarsi l'uscita dall'emergenza. Pian piano, esperti politici e media scoprono i problemi di conteggio dei decessi, l'importanza delle terapie e gli effetti avversi dei vaccini. Benvenuti, ma la dignità citata dal Capo di Stato impone di non dimenticare che siamo le responsabilità dei disastri. E vediamo l'avvenire, la prima pagina di Avvenire. Custodi della vita, oggi ci ricorda. Giornata nazionale promossa dalla CEI, la Conferenza Episcopale Italiana. Invito a proteggere le esistenze più fragili e indifesi, da nascitura agli anziani, a tutti coloro che sono segnati dalla vulnerabilità. E poi la grande siccità che asseta l'Africa. Pensate, sono già a rischio 20 milioni di persone. Andiamo a vedere le pagine interne con gli approfondimenti. Partiamo, come vi ho detto, da un'intervista ospitata a pagina 3 di Repubblica al generale Figliuolo, stiamo parlando di Covid, stiamo parlando di lotta alla pandemia. E allora il titolo, il virus arretra, ora negli ospedali torni la normalità. Vediamo che cosa dice. Dice, quando arriverà il nuovo vaccino, Nova Vax, si potrà scegliere di averlo al posto degli altri due RNA da fine febbraio, indicato per il ciclo primario, non per i richiami dai 18 anni. Speriamo di un'ulteriore spinta alla vaccinazione degli esitanti. Le somministrazioni saranno organizzate dalla struttura, insieme a regioni e province autonome, in base anche alle sensibilità legate al territorio. E poi ancora il generale Figliuolo, che è stato nominato, messo anche a capo del vertice Interforce, è appena rientrato da Libano. Lì abbiamo molti uomini, molti militari impegnati in una missione d'anni. E allora che cosa dice Figliuolo? Dice il Ministro Guerini, mi ha affidato il comando del vertice Interforce. La difesa contribuisce alla lotta contro la pandemia con due operazioni. La prima EOS e la seconda Atena aiuta con i test nelle scuole. 180 militari hanno effettuato 183 mila tamponi in 2.900 istituti. C'è poi il ruolo logistico del Lab Nazionale Vaccini della Difesa, che assicura stoccaggio e consegne di milioni di dosi alle strutture sanitarie di tutta Italia. Era giusto che se ne parlasse, naturalmente. Andiamo sul messaggero, perché c'è un'intervista, e continuiamo a parlare di lotta al Covid, a Walter Ricciardi. Dice la pandemia fase nuova, ma per tutta l'estate, dice, servirà il Green Pass. Non sappiamo, dice, se servirà la quarta dose. È giusto congelare la scadenza dei certificati. Vi leggo molto rapidamente le interviste, ve le segnalo. Andiamo sul Corriere della Sera, perché c'è un'intervista a Locatelli. E allora che cosa dice, sempre a proposito di Covid? La fase critica sta finendo, lo dicono tutti gli indicatori. Ora serve pianificare le riaperture con gradualità. No all'ipotesi, però, di ridurre l'isolamento degli asintomatici. E chiudiamo questo spazio dedicato al Covid, restando sul Corriere della Sera, perché ci ricorda quali sono le tappe, le scadenze imminenti. Allora, il 7 febbraio, per chi ha effettuato la terza dose o la dose booster, la durata del Green Pass diventa illimitata. Dall'11 febbraio cessa l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto in zona bianca e potranno o potrebbero riaprire le discoteche. E ancora, a febbraio dal 15, gli ultracinquantenni potranno accedere al lavoro solo con un certificato di vaccinazione e guarigione. Poi andiamo a giugno e a marzo, però forse non è il momento già di parlarne. Ne parleremo poi più avanti. Andiamo a parlare sulla Repubblica di scuola, perché lo sapete, gli studenti sono scesi in piazza in queste settimane, hanno, come dire, protestato contro l'esame di maturità, questa nuova formula dell'esame di maturità dopo due anni di pandemia e poi hanno polemizzato naturalmente per quanto riguarda la scuola lavoro che ha portato anche alla morte di un ragazzo, Lorenzo. Allora c'è una lettera del Ministro Bianchi, che viene ospitata appunto sulla Repubblica, dalla maturità all'alternanza, ora dice voglio ascoltare i ragazzi per costruire la nuova scuola. Quindi, come dire, tende la mano al dialogo. Si parla di scuola anche sulla stampa. C'è un'intervista alla Ministra Dadone, che è la Ministra per le politiche giovanili, e dice mi sono rivista nelle proteste, scossa dai ragazzi feriti. Ora la Morgese, che è la Ministra appunto dell'Interno, dice chiarirà, dovrà chiarire. Tra l'altro vi ricordo che in settimana si presenterà in Parlamento proprio per chiarire. Andiamo a parlare di politica, perché come ho detto Di Maio si è dimesso dal Comitato di Garanzia del 5 Stelle. Strappo di Di Maio, mi dimetto da garante. La replica di Conte non finisce qui. E allora andiamo a vedere sul messaggero. C'è un'intervista a proposito di 5 Stelle al capogruppo Crippa. Che cosa dice? Il gesto di Luigi Di Maio dice utile, favorisce il chiarimento, non prevedo scissioni. Questo è quanto dice appunto Crippa in questa intervista. E sempre sulla stampa c'è un'intervista a Deborah Serracchiani, al Partito Democratico. Dice la diaspora dei 5 Stelle ci preoccupa e dice comunque no al rimpasso di governo. Continuiamo a parlare di politica. Andiamo sulla stampa, andiamo. E abbiamo però il centrodestra, al centro delle attenzioni in questo caso. Il centrodestra si squaglia. La Meloni è la nostra alleanza, dice non esiste più, la ricostruisco io. Salvini, c'è ancora qualcuno che preferisce presidiare l'orticello. E poi Berlusconi, se Giorgia, Giorgia Meloni fa così, rischia di fare la fine di Le Pen. Questo è quanto dice Berlusconi. Berlusconi che l'altro giorno si è incontrato con Pier Ferdinando Casini. C'è un'intervista sul Corriere della Sera proprio a Pier Ferdinando Casini. Dice io e Berlusconi abbiamo fatto tanta strada insieme, adesso sa che deve unire. Dice non sono il grande suggeritore del centro, perché proprio di centro si parla in questi giorni. Si parla però anche di giustizia, un tema sul quale ha posto l'accento il capo dello Stato Mattarella nel suo discorso di insediamento. C'è un'intervista a Giovanni Maria Flick. Mattarella rilancia la giustizia e allontana il presidenzialismo. Questo è il titolo della sua intervista. Parliamo di politica ma in realtà è cronaca perché si torna a parlare di Renzi, di Matteo Renzi. E allora che cosa scrive la stampa? Il senatore ha incassato oltre un milione per le consulenze in Arabia Saudita, accertamenti della finanza dopo la segnalazione di Banca Italia. C'è qui sotto la replica di Renzi però tutte attività legali e già dichiarate. Questo a proposito di Arabia Saudita. Abbiamo un'altra notizia, questa di cronaca, per chiudere. E allora c'è stata una multa fatta ai due figli del capo di gabinetto del sindaco di Roma Gualtieri e loro pare che abbiano detto, una volta fermati dai carabinieri, come si diceva una volta, come forse diceva Totò, ma la cosa non ci fa sorridere, dice non sapete chi siamo. Purtroppo nel 2022 abbiamo ancora la sfacciataggia di dire lei non sa chi sono io. 7.21 minuti, la linea a Paolo Sottocorona con le previsioni del tempo. Sì, buongiorno. La situazione di oggi, sempre piogge molto deboli, qualche pioviggine potrebbe interessare parte del centro e parte del sud. E poi, come al solito, come al solito perché sono zone quasi fisse, Liguria di Levante, Alta Toscana, Nord-Est, con possibilità di qualche precipitazione, ma ci sono anche le schiarite e le zone in cui appunto non piove. Nella giornata di domani, questa incertezza del tempo si va a concentrare soprattutto al sud, molto marginalmente al centro e quasi nulla al nord, e vedete che compare sul basso Tirreno, quindi Campania, Calabria, Sicilia settentrionale, il colore azzurro, che corrisponde a piogge moderate, quindi vere piogge, non le deboli pioviggini con cui abbiamo a che fare. Vedremo un po' come funziona questa situazione, quindi una leggerissima intensificazione di questo tempo appena incerto, e poi la giornata di martedì in cui molto rapidamente, ci lascio un punto interrogativo perché quando sono così rapidi i cambiamenti bisogna essere cauti, sembra che scompaia assolutamente tutto. Staremo a vedere ovviamente domani, controlleremo. Le temperature, le minime di questa mattina non particolarmente basse, perché la situazione non è più quella con l'afflusso di aria molto fredda, poi il cielo in parte coperto, come sapete, aiuta a mantenerle un poco più alte. Lo stato dei mari vede i mari di intorno alla penisola, quelli meridionali, da poco mossi e localmente mossi, un po' più di moto ondoso c'è sul mare di Sardegna, poi a largo, a nord delle Baleari, ma vedete che oggi non si tocca più quel livello di mare agitato, quindi al più localmente molto mosso. Se volete, che ci dà una situazione insomma complessivamente abbastanza tranquilla. Se volete ci vediamo intorno alle 7.55, adesso pubblicità e poi la prima edizione del nostro telegiornale. Da più tardi.